benvenuti in questo video oggi è la sessione per un'amica debora chiamo il suo papà vincenzo andiamo subito a vedere la sessione contattiamo altre persone altre anime vediamo un po allora questa l'ho registrata ieri 18 novembre oggi è 19 domenica sono le 8 meno 20 del mattino devora vorrebbe un messaggio dal suo papà vincenzo allora chiedo allora la scelta è stata questa siccome che la mamma che si chiama libia era venuta già varie volte le varie dirette oppure debora era presente nelle varie dirette e renta era entrata sia spontaneamente o chiamata da debora stessa e ha lasciato messaggi allora io il papà non l'avevo mai sentito allora mi sono detto io chiamo il papà invece di chiamare la mamma vincenzo sei qui e subito vincenzo ci risponde che lui è sopra e quindi ci dà l'idea di stare bene di essere nella luce e aggiunge sto bene qua cioè io sono sopra e sto bene qua e dice una parola molto particolare sono pietà questo va a spiegare anche un po la vita passata di vincenzo e molte problematiche che ha avuto in vita e che ha dato in vita alla propria famiglia alla moglie alla figlia eccetera eccetera e qua ci dice che sono sono solo pietà io ma sono felice dice che è pietà comunque sta ancora finendo un percorso secondo me di aver vissuto la vita terrena e sta facendo un po la resa dei conti e qua comunque lui è su però dice io sono felice qui dove sto però ovviamente si ricorda quello che ha fatto in vita magari anche le mancanze che ha avuto nei confronti della moglie della figlia degli amici dei parenti eccetera eccetera cioè quando andiamo di là dobbiamo tirare tantissime somme anche sui puntini e sulle virgole e quello lo andremo a scoprire in un'altra sessione molto particolare di entrate spontanee che ho fatto ieri e lì è successo veramente di tutto se riesco lo posterò oggi perché sto ancora finendo di sentirlo e lì ci sono dei messaggi delle entrate spontanee veramente veramente incredibili e ride lui una guida molto probabilmente non è il mio spirito guida ma è un ministro che dice e ride lui cioè ride lui vuol dire che comunque è contento del livello attuale in cui adesso si trova mi pare che c'è vincenzo scusate sistemare un po l'attrezzatura perché ogni tanto fai capricci vorrei rifare un po i cavi e tutto vincenzo vuoi mandare un messaggino a debora e gli chiede vuoi mandare un messaggino a debora e lui dice diversi non ho un messaggio solo ho vari messaggi da dare a debora e uno dei messaggi secondo me più belli che vuole mandare a debora non è il ti voglio bene gli sta dicendo guarda che qui c'è dio e dio è grande e questa queste due parole grande dio ci deve far capire tantissime cose vuole le scuse stai serena cioè qui dice che è grande dio ma vuole le scuse però dice stai serena cioè c'è qualcosa che non è andato come doveva andare o nella vita di vincenzo nella vita di debora e qua dice che vuole le scuse però stai serena cioè anch'io faccio degli sbagli tutti facciamo degli sbagli e l'importante è pentirsi degli sbagli e capire di aver fatto uno sbaglio e qui soffi qua io penso che c'è una bambina con vincenzo e si chiama soffi e mi fermo qui insomma ecco e qua ho dovuto togliere il nome perché dice il nome della mia amica la mia amica che mi aiuta a canalizzare le varie anime aiutare con gli alieni eccetera eccetera qua dice begli a dio e dice il nome di questa persona e siccome che debora conosce ho fatta conoscere la mia cara amica e dice dio veglia su questa persona e poi dice una cosa molto fondamentale avere stella seriosa cioè la mia amica non racconta frottole non racconta balle racconta la verità e con lei c'è un ministro una stella un'identità molto elevata che è seria e seriosa anch'io c'ho delle guide molto serie e seriose perché più avanti dicono una cosa debora molto particolare a me due settimane fa mi hanno fatto un cazzatore di quelli veramente potenti che mi hanno ribaltato mi hanno ribaltato l'anima per una settimana circa e poi ho capito perché ci danno ci sgridano perché mi hanno sgridato e anche qui adesso alla fine fanno una mezza sgridatina debora ci sgridano perché comunque ci vogliono bene è come un papà che sgrida il figlio non lo sgrida perché ha il piacere di sgridarlo perché alla fine gli vuole bene e ci vogliono bene mio mi preoccuperei se qualcuno non viene sgridato vuol dire che se non si se non ti sgridano quando sbagli o quando hai sbagliato vuol dire che se ne fottono cioè interessa poco perché poi quando vai di là poi dopo ti fanno il cazzatore mega galattico eccetera 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 ecco ho sentito poco ma come sempre poi dovrò sentire nella registrazione allora ti chiedo vincenzo stai bene sei nella luce allora io chiedo vincenzo anche se lui non aveva già detto sì se sta bene sei nella luce sì io bene e qua ci dice una cosa molto particolare stella fu diretto mi entità vuol dire che una stella ha incontrato una stella e è stato diretto nel senso guarda gli ha detto guarda che cosa hai combinato nella tua vita mi entità qua sta a significare che gli ha fatto vedere il percorso terreno che ha fatto gli sbagli che ha fatto e lui ha dovuto capire molto brevemente tutto il suo percorso terreno e questa guida ha messo il punto ti ha detto guarda che cosa hai fatto punto adesso legge il libro della vita o guardati il film scusate della tua vita perché può succedere che alcuni si guardano il suo film della vita alcuni si siedono su una sedia e leggono il libro della vita tutto quello che abbiamo fatto cioè è tutto registrato cioè non pensate che qualcuno salta vari passaggi dalla vostra vita è tutto registrato cioè tutto quello che fate viene registrato cioè di là nulla è un caso nulla è per caso e qui nella vita potete mentire potete modificare alterare la verità ma di là non è così è impossibile farlo qui aiuto ferma carrabile non so bene che cosa voglia dire magari è un qualcosa nella vita di deborina va bene di debora io la chiamo devorina che deve fermare una determinata qualcosa deve fermare qualcosa carrabile penso a un passaggio di un qualcosa ecco insomma dice sto bene e qua dice una cosa molto particolare che l'uomo purtroppo una vita così troppo veloce non ha tempo neanche di respirare e di là se ne accorgono che un cambio di vita nel senso qui in terra poi quando vanno di là dicono porca la miseria guardate che cosa strana è la vita e ti dice che di là la gente di qui cioè nella loro dimensione ti guarda dentro se sei buono sei cattivo sia se sei veramente una persona che ama cioè per le anime di ci sono di là tutte tutte quelle che stanno nella luce hanno hanno la possibilità di guardarti dentro e vedere chi sei in realtà mi pare di aver capito che stai bene hanno sentito un va bene chiaro poi dopo vedo sento allora volevo chiederti vincenzo riesce a stare vicino a debora e dice cosa è diventato qua è un ministro che dice guarda che vincenzo non è più il papà di una volta guarda che vincenzo è un'altra anima si è evoluta e dice guarda che cosa è diventato non è più la persona che conosci è una persona molto più elevata di quello che hai visto in terra ecco e dice cortile qui molto probabilmente si riferisce che lui sta in un cortile nell'altra dimensione e poi dice una cosa a debora lontano lavora devora lavora lontano da casa e non riesce a stare tanto con la propria famiglia per il lavoro che svolge qua dice sta in vetro cioè qua si riferisce molto bravamente al lavoro che che svolge insomma è bloccata su questo posto di lavoro e non riesce comunque avere il tempo materiale per stare con la famiglia e svolgere tutte le attività che vorrebbe che vorrebbe e dovrebbe svolgere e lui è in ogni fontana praticamente qua è una cosa molto particolare perché comunque le anime sfruttano anche l'acqua di fatti la meta visione viene fatta con l'acqua con lo specchio eccetera eccetera loro hanno la possibilità di farsi vedere anche nell'acqua e quindi sfruttano anche questa cosa del movimento cioè si possono spostare sia in aria in aria ossigeno di carbonica eccetera 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 ma si possono far vedere di più in acqua e ti dice ti abbraccio ti abbraccio e qui bene lui dice che comunque sta bene allora vincenzo volevo chiederti ma tu ti sei incontrato con libia allora aspetta qui mi fermo un attimo io le corna e allora volevo volevo capire una determinata cosa se vincenzo ha visto sua moglie livia dice certo sì fiore quando io l'ho incontrata gli ho gli ho dato un fiore perché adesso sentiamo una cosa molto particolare che dice vincenzo quando ha incontrato libia li scuse perché ha fatto capolinea ha tirato le somme nella sua vita ha capito che comunque ci sono stati degli errori ci sono state delle mancanze come dicevo prima e qui si incontrano gli da un fiore e gli chiede scusa e qua vincenzo dice guarda che mia moglie libia tua mamma è diversa non è più quella mamma come dicevo prima come vincenzo che non è più quella mamma che conoscevi un tempo è un'anima elevata ovviamente ed è giusto che sia così mi pare di aver sentito un sì e allora vincenzo ti do ancora qualche minuto ti puoi parlare a ruota libera ti do ancora un minutino per mandare un messaggio a debora dice sì ma han preso io perdono e qui dice che qualcuno insomma il ministro di prima gli ha fatto fare il punto eccetera eccetera lui ritorna su questo discorso e dice che l'hanno preso io perdono perdono anche le mancanze che ho avuto di me stesso sia con libia che con la figlia insomma è uno scambio di diciamo di sentimenti e di mancanze sue ma mancanze anche verso perché comunque è normale se io ho una mancanza mi fa mancare una cosa io ho una mancanza verso di lei quindi è normale questo scambio diciamo di mancanze insomma un po di scuse amboidati ecco se riesco a farvi capire insomma poi vabbè debora saprà sicuramente mi dice mi piace e ti trovo nel senso che comunque risponde anche un po la domanda di prima insomma che va a trovare deborina debora e dice sì comunque io mi piace come sei diventata chi sei eccetera eccetera ma io ti trovo ti vengo a trovare e qua dice famiglia padrone se stesso cioè la famiglia è padrona di se stesso la famiglia ha le sue necessitudini i suoi problemi e fa le scelte su se stessa ecco insomma questa un po una cosa così e poi adesso c'è un'entrata spontanea qua dice c'è ornella che dice che a luciano fa freddo e questa è un'anima in difficoltà perché se hanno freddo vuol dire che sono nel basso astrale sono sotto e adesso arriva un'altra entrata spontanea ma per sempre deborina qua dice sul mobile solo ti ha riso prima e qui apro una parentesi perché mi dice queste libia mi dice sul mobile solo e io lo so che è sul mobile perché io sono stato a casa di debora quattro anni fa e devo aveva fatto vedere un mobile dove c'era la foto di libia del papà dei suoi cari insomma i suoi affetti infatti libia mi sorride sapendo che io mi ricordo di essere stato cioè di essere ovviamente stato a casa di debora e di aver visto la foto di libia sul mobile e difatti debora confermerà cioè lo sa bene perché è casa sua che lì sul mobile c'è la foto di sua mamma e mi dice che è dietro è venuto a trovarmi anche libia io ho chiamato papà però è venuto a libia spontaneamente e diciamo che io ho chiamato apposta vincenzo perché volevo che poi dopo arrivasse anche libia e infatti è stato così cioè sono veramente vabbè comunque non so come dirlo sono veramente tremendo ecco perché se chiamavo libia secondo me non veniva vincenzo da solo però se chiamavo vincenzo secondo me arrivava a libia infatti è stato così e qua dice come un pesce tace perché perché libia sa bene che è venuta varie volte in metafonia da me non solo anche in canalizzazioni della mia amica e qua ci fanno capire anche comunque un po che non bisogna chiamarli troppo spesso perché comunque devono continuare al loro percorso chiamarli ogni volta o con la metafonia con canalizzazioni gli rendiamo difficile il loro percorso se veramente li vogliamo bene dobbiamo lasciarli veramente andare non chiamarli quando abbiamo sempre bisogno e qua dice una cosa molto particolare farà teneo nel fiume teneo e abbracciare il fiume è il punto tra la nostra dimensione e la loro dimensione molto probabilmente da quanto mi viene a me è che debbra comunque la vista la mamma in questo passaggio di dimensioni loro lo chiamano fiume ma è praticamente la nostra barriera il nostro velo dove quando noi facciamo quando noi dormiamo e facciamo i viaggi astrali andiamo a trovare oppure facciamo dei sogni che anche incontriamo entità che comunque non fanno parte della nostra sfera familiare ma magari hanno fatto parte nelle vite passate della nostra sfera familiare e qui si si o si devono abbracciare in un prossimo sogno diciamo o è già stato fatto e qualcuno dice vero 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 ok allora volevo farti un'ultima domanda vincenzo prima che ci lasciamo mi dispiace per i tempi ridotti volevo capire un po' tutte le contrarietà che affronta debora nella sua vita sono normali o è frutto di qualcos'altro di invidia di sentimenti negativi delle persone che comunque la circondano sia nel campo lavorativo che nell'amicizia eccetera se poi se puoi spiegarmi un po' questa situazione grazie e io gli faccio comunque la domanda difficile a vincenzo per le varie stranezze diciamo che comunque capitano nella vita di debora ma anche nelle nostre vite insomma può succedere un qualcosa di particolare dice ma dove arriva tutta sta sfiga ecco in poche parole e io chiedo faccio questa domanda e adesso vediamo se ci risponde insomma e qua dice qua c'è olmo a mia guida olmo e sant'antonio qua dice qua olmo soffre capisce la difficoltà che hai debora e olmo comunque soffre di queste queste cose di questo attaccamento che comunque le persone hanno nei tuoi confronti perché magari sei troppo brava sia nel tuo lavoro con il cuore con l'anima animo eccetera eccetera però ti dicono due cose fondamentali risolvi diagnosi e tu essendo quello quello che sei nel tuo lavoro devi risolvere i tuoi problemi facendoti una diagnosi personale si molte cose arrivano dalle persone che sono invidiose che odiano eccetera eccetera però c'è anche una parte di te che crea queste determinate cose ecco insomma che sta 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 questa dicevo devi risolvere le tue diagnosi e poi adesso arriva il cazziatore perché prima c'è la carota e poi c'è il bastone e non prenderla male cara debora perché è successo anche a me che mi hanno dato una bastonata un po più forte di quella che ti stanno per dire ma piangi meno risolvi la diagnosi ma piangi meno cioè piangere a volte si ti scarica i nervi quello che è però alla fine i risultati non arrivano dovresti vedere risolvere la diagnosi piangere di meno perché questo è un consiglio che veramente secondo me a olmo sant'antonio ti ti dice secondo me con il cuore in mano per farti capire una determinata cosa e qua dice odio lo sapevo vedi che comunque vincenzo ti risponde perché comunque ha letto quello che sta dicendo a olmo perché sa loro vedono determinate cose e ti dicono c'è odio intorno a te l'odio comunque crea quelle negatività e questi disagi che comunque tu porti l'odio purtroppo fa queste cose insomma anche a me in una prossima sessione sentiremo una cosa molto particolare sull'odio che alcune persone stanno stanno alimentando contro di me va bene così insomma ok va bene ho sentito qualcosa dai ti do l'ultima possibilità di dire qualcosa a debora vincenzo a debora vincenzo e poi ci salutiamo grazie vincenzo a poca a poca dice che comunque andiamo avanti che poi lo spiego qua dice a poca tante stelle vedere qui facciamo aspettare un attimo se no esce un casino e qua dice allora dice a poca hai poche stelle vicino a te ma probabilmente non riesci ad alzare le tue vibrazioni vincenzo dice vedere qui tante stelle da me ci sono tante stelle e dice demo sono a vista cioè tu qui hai tante stelle io le vedo sono a vista cioè mi sta dicendo che comunque sono fortunato ad avere queste stelle vicino ma lo vedremo anche in un'altra sessione di queste stelle che mi stanno vicino e in qualche maniera mi aiutano per vari motivi beh comunque lo vedremo e ti dice tesoro esame molto probabilmente debora ha fatto un esame nel suo lavoro e vincenzo è furioso non di come è andato l'esame ma come sono andate le altre cose che tu sai debora di che cosa sto parlando tu sentire che tu senti tu terre qui sole cioè tu sei ancora nella dimensione terrena ma qui c'è il sole cioè qui è un messaggio un po' particolare e molto profondo nel senso le cose vanno come devono andare ma poi una volta quando siamo di qua cioè di là io parlo di qua perché io secondo me io sono già di là cioè sta terra lì c'è il sole c'è la luce c'è Papa Dio ci sono i santi ci sono i ministri ci sono tante anime belle insomma è tutto diverso di là ecco qua certo odio nel senso che lì c'è qui c'è odio di là non c'è odio e qua mi dicono un messaggio molto particolare Mucci in alto Mucci in alto che praticamente io sono in alto sinceramente non so come faccio a essere in alto perché mi sembra di essere in basso comunque andiamo a Schermintero questa è una sessione abbastanza impegnativa abbastanza lunga piena di messaggi profondi sia per Debola ma anche per noi perché comunque noi dobbiamo prendere spunto da ogni da ogni sessione perché comunque ci avvicina sempre all'arrivo nel senso se noi capiamo già in vita determinate cose determinati sbagli che possiamo fare determinate situazioni siamo più avvantaggiati cioè chi vede questi video chi sente queste queste metafonie deve capire determinate cose se tu mi guardi il video e non capisci un'acca siamo appunto a capo è meglio che il video non lo vedi io preferisco che ci sono dieci persone che vedono il video anche se ci metto le ore a sentire la traccia a costruirla a montarla eccetera eccetera ma poi lo vedono in dieci ma questi dieci capiscono i messaggi di metafonia messaggi di speranza messaggi importanti a me sta bene così nel senso se il video viene visto da cento persone ma il video è capito da dieci persone io ho fallito cioè non mi serve far vedere il video a cento duecento persone a me interessa che il video viene visto e viene anche capito e niente grandissima lezione da Vincenzo grande messaggio anche di Libia dicendo sorridendo dicendo che lei è sul mobile perché lei sa che io l'ho vista e insomma niente al prossimo video un abbraccio a te cara Deborah Vincenzo Arivia che sono anche parte del mio cuore ecco insomma niente al prossimo video contattiamo altre altre persone altre anime vediamo un po' Deborah vorrebbe un messaggio dal suo papà Vincenzo allora chiedo Vincenzo sei qui? ok mi pare che c'è Vincenzo scusate sistemare un po' l'attrezzatura perché ogni tanto fai capricci vorrei rifare un po' i cavi e tutto Vincenzo vuoi mandare un messaggino a Deborah? grazie armeni buona buona armeni buona 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 ho sentito poco ma come sempre poi dovrò sentire nella registrazione allora ti chiedo vincenzo stai bene sei nella luce? mi pare di aver capito che stai bene ho sentito un va bene chiaro poi dopo vedo sento allora volevo chiederti Vincenzo riesci a stare vicino a Deborah? mi pare di aver sentito un sì eh? allora vincenzo ti do ancora qualche minuto ti puoi parlare a ruota libera ti do ancora un minutino per mandare un messaggio a Deborah ok allora allora volevo farti un'ultima domanda Vincenzo prima che ci lasciamo mi dispiace per i tempi ridotti volevo capire un po' tutte le contrarietà che affronta Deborah nella sua vita sono normali o è frutto di qualcos'altro di invidia di sentimenti negativi delle persone che comunque la circondano sia nel campo lavorativo che nell'amicizia eccetera se poi se puoi spiegarmi un po' questa situazione grazie ok va bene ho sentito qualcosa ti do l'ultima possibilità di dire qualcosa a Deborah Vincenzo a Deborah Vincenzo e poi ci salutiamo grazie Vincenzo ok